Quando segna Andrea Petagna è due volte più contento, è così? Sì, perché comunque fare gol è bello, dà carica, dà emozione, però da dire il vero ero anche felice contro l'Everton quando ho fatto una grande partita e ho fatto degli assist, quindi puoi giocare in Europa dà una carica in più, una motivazione in più e vincere in Europa è ancora più bello. Quanto sentivate questa partita contro l'Apollon? Arrivavate da una sconfitta brutta per come maturata contro la Sampdoria? Sì, sentivamo molto perché almeno personalmente bruciava tanto la sconfitta di Genova, avevamo voglia di riscattarci, io penso che dobbiamo costruire una serie di risultati positivi per costruire una mentalità vincente che possiamo averla, una squadra forte come la nostra deve averla e adesso domenica avremo una partita importante di campionato, dobbiamo raddrizzare la classifica perché vogliamo stare in alto. Ecco, in alto in Europa League ci siete, siete lassù, in betta, imbattuti. Sì, chiaramente è bello vederci lì, è un obiettivo che è vicino da raggiungere, dobbiamo essere intelligenti, bravi, nelle prossime partite non distrarci perché possiamo raggiungere questa qualificazione che sarebbe un sogno, sarebbe importante e vogliamo giocare in Europa perché è magnifico giocarci. Magnifico giocarci ed avere un pubblico come quello che vi ha trascinato. Chiaramente giocare qua è, non so, da una carica in più, i tifosi li sento di più perché la curva è un po' più vicino quindi è qualcosa di bello ma penso che anche a Bergamo tra qualche anno, forse un anno o due non si sa, però avremo la curva vicino a noi. Però chiaramente questa vittoria è anche per i tifosi che ieri c'era il compleanno della Dea quindi abbiamo festeggiato e siamo felici.